Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, a tutti ragazzi in questo nuovo video vi spiego come applicare così lo stretch, la grafica allungata su Fortress Ovviamente c'è chi ha problemi proprio ad applicare così lo stretch oppure quando andate ad applicare questo stretch Fortress non si avvia proprio, quindi in questo caso ci sono due metodi per risolvere il tuo problema Quindi se noi andiamo un attimo su Updata, questo è il primo metodo, quindi su Esegui, tu scrivi Esegui qua e andiamo direttamente in Esegui Vai su Updata, Updata, Local, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite Game, Save, Config, Windows, Client, Game, User, Setting Scendi fino a giù, fino a trovare Last, User, Config, Resolution, questo qua X e Y Ovviamente come puoi vedere ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 800 x 600 Lo stesso vale per tutti Una volta applicata così la risoluzione fai su Salva Salvi così la configurazione e chiudi qua Poi una volta fatto devi riavviare Fortnet Il secondo metodo invece per non avere problemi riguardo all'avvio oppure problemi al crash Vai direttamente sul pannello di controllo di Nvidia Però se non hai il pannello di controllo di Nvidia andremo a farlo in un altro metodo Quindi impostazione di Nvidia Personalizza Crea la risoluzione personalizzata E adesso vado a mettere 800 x 600 Mi creo così la mia risoluzione Velocità di aggiornamento 165 Hz e faccio prova Ok già esiste quindi se già esiste Non mi resta che andare su PC e mettere 800 x 600 165 Hz la mia velocità di aggiornamento Faccio applica Faccio sì Ed ecco la risoluzione su Fortnet Vado sulle impostazioni 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 qua Eccola qua Modalità finestra Risoluzione Finestra a schermo intero 4 terzi 800 x 600 E faccio applica Mantieni le modifiche Ed ecco a voi Lo stretch su Fortnet Impostazione Se si vede male Dobbiamo applicarla anche su Se avete altri problemi Adesso ritorno un attimo alla mia risoluzione 1920 x 1080 Faccio sì Chiudo un attimo Fortnet Se avete altri problemi Andate direttamente su impostazioni schermo Risoluzione dello schermo Ed eccola qua 800 x 600 La puoi applicare qua sopra L'applichi anche sull'impostazione di Nvidia E l'applichi anche sul Game User Setting E così metterai il tuo stretch Qualsiasi risoluzione che vuoi su Fortnet Quindi se questo video ti è stato utilissimo Su come applicare lo stretch La grafica allungata Su Fortnet Iscriviti Lascia like E noi ragazzi Ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao